Si è concluso a Palazzo Lascaris il ciclo di incontri Il Benessere come Modello di Vita, organizzato dalla Federazione Piemontese della Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria, CIPES. Scopo dei nuovi incontri che hanno dato vita all'iniziativa è divulgare la consapevolezza che fare salute non significa soltanto curare e cercare di guarire chi è malato, ma anche e soprattutto prevenire le malattie o almeno contenerne l'evoluzione e l'incidenza.